Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il WWF Abruzzo ha lanciato una petizione, una raccolta di firme per chiedere l'istituzione del garante della natura, una figura che può assumere una certa centralità in una epoca segnata dai cambiamenti climatici. Il servizio di Paolo Renzetti. Ditizio, questa mattina in conferenza stampa avete parlato di questa volontà del WWF di chiedere l'istituzione di un garante della natura. Perché questa richiesta? Il WWF intanto ha presentato già un'istanza al Senato e alla Camera e sta raccogliendo le firme su web e oggi siamo qui presenti tutti i responsabili a vario titolo dei parchi nazionali, del parco regionale, dell'area marina protetta d'Abruzzo, tutte le aree protette principali d'Abruzzo per firmare insieme questa richiesta. Il garante della natura serve perché oggi salvaguardare l'ambiente è fondamentale, non ci si può limitare a salvaguardarlo nei parchi come se fossero delle isole felici. Abbiamo sotto gli occhi quello che sta succedendo nel cambiamento climatico, ce ne accorgiamo ogni giorno per riuscire a sopravvivere, per riuscire a restare su questo pianeta in maniera vivibile. Abbiamo bisogno di cambiare completamente atteggiamento, abbiamo bisogno di cambiare nel nostro punto di vista nei confronti della natura. Un garante può servire come figura terza, come figura esterna, può servire sia a richiamare tutti quelli che hanno competenze a controllare che facciano in pieno il proprio dovere, sia a stimolare tutte le altre competenze, sia a fare in modo che l'ambiente sia al primo posto nell'agenda di tutti gli interventi. Perché questa è oggi una necessità, non è una scelta. Ora la palla passa alla politica di Tizio? La politica ha sempre la palla in mano perché la politica deve gestire, deve fare quello che è necessario per la tutela dei cittadini e del mondo in generale, dell'ambiente in generale. La politica dovrebbe già farlo e oggi distratta per una serie di emergenze come il Covid e poi attualmente purtroppo la guerra, ma non può dimenticare quelle che sono le esigenze primarie perché combattere, lottare per affrontare le emergenze, senza tenere presente le emergenze contingenti, senza tenere presente quella che è un'emergenza generale che viene prima e dopo e che continuerà a esserci anche dopo queste emergenze particolari e momentane della guerra, sarebbe un errore grossolano e gravissimo. La cronaca, un uomo di cui non si conoscono le generalità, è stato trovato morto all'interno di un furgoncino abbandonato che usava come riparo nei pressi dello svincolo di Pescara Nord-Montesimano Sud della variante alla strada statale 16. A lanciare l'allarme è stato un residente della zona, insospettito dal forte odore che arrivava dal mezzo. A seguito della telefonata alla sala operativa del 118 sul posto sono arrivati i sanitari che hanno potuto solo constatare il decesso e i carabinieri. Il corpo che non presenta apparenti segni di violenza è in decomposizione, il decesso potrebbe quindi risalire ai giorni scorsi. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi della Casa della Solidarietà di Montesilvano, struttura che secondo alcune testimonianze l'uomo avrebbe frequentato in più occasioni. è stata disposta l'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni per accertare le cause del decesso e identificare l'uomo. Proseguono gli accertamenti dei militari dell'arma della compagnia di Montesilvano. E poi ancora tre persone sono rimaste ferite dopo la mezzanotte in un incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale Pescara Chieti all'altezza dell'ex cementificio in direzione Maremonti dove due auto si sono scontrate. Due feriti sono rimasti incastrati fra le lamiere, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco e poi trasportati in ambulanza all'ospedale civile. Disagi al traffico per permettere il lavoro dei soccorritori sul posto intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Le problematiche strutturali delle sedi che ospitano i centri per l'impiego sono state al centro della riunione che l'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale ha tenuto questa mattina a Pescara. Sono 21 milioni di euro stanziati per potenziare i CPI. Vediamo. Il parco fluviale di Teramo, un anello verde e lussureggiante che circonda la città sarà interamente riqualificato con un progetto da 8 milioni di euro. Intanto è appena stato inaugurato il primo lotto da 600 mila euro che prevede l'abbattimento di un vecchio edificio che sarà trasformato in un moderno ristoro. Soddisfatta l'assessore comunale alla mente Martina Maremonti. È un momento di riconnessione con la città e di riappropriazione di spazi verdi nella tutela e nel rispetto chiaramente dei luoghi. Lavoro che parte da molto lontano, c'è una progettualità a differenza di quello che alle volte si cerca dall'opposizione di dire, c'è un progetto, una progettualità che vede Teramo al centro di ogni obiettivo e questo è uno di quelli. Una volta completato il progetto il parco fluviale di Teramo si connetterà alla città attraverso quattro vie d'accesso, Ponte a Catena, Via Vecchia, Via Vecchio Mattatoio e Via Cona, un luogo questo sempre più frequentato dei Teramani e sul quale il Comune ha deciso di investire. Per la prima volta nella storia esiste un progetto di valorizzazione del parco fluviale che ne rispetta la natura, l'identità ma lo valorizza come infrastruttura ambientale hub di riferimento. Di fatto lo è già stato nel corso di questi anni, teatro di iniziative, di attività che l'hanno fatto conoscere e a cui è stata legata un'attività di cura e di manutenzione. Oggi facciamo un passo avanti straordinario, dimostrazione del fatto che tutta la programmazione che abbiamo messo in campo non è un libro dei sogni, noi il sogno lo stiamo scrivendo con l'attività quotidiana, con progetti finanziati che stanno partendo e che riguardano veramente quelle che sono le potenzialità per troppo tempo inespresse non sviluppate della nostra città. Il progetto di riqualificazione del parco fluviale di Teramo sarà realizzato da Casa Atelier Architetture, uno studio tecnico costituito da sole donne. Abbatterete questa casetta e come la ricostruirete? La nuova casetta sarà ricostruita con una struttura di acciaio, mattoni e finiture di canapa che è una tecnologia a cui teniamo molto, che è perfettamente ecocompatibile, riciclabile e consente una qualità di vita all'interno delle strutture veramente ottima, dove appunto la natura e la qualità dello stare in natura si ripercuotesse anche nello stare all'interno delle nuove strutture che realizzeremo. Come si lavora con un team tutto al femminile? Si lavora molto bene, nonostante tutti ci chiedano se litighiamo, in realtà non è così. Evidentemente questo era il servizio relativo al progetto di riqualificazione del parco fluviale di Teramo, adesso possiamo proporvi il servizio relativo ai centri per l'impiego in Abruzzo e i 21 milioni di euro che sono stati approntati. Le problematiche strutturali delle sedi che ospitano i centri per l'impiego sono state al centro della riunione che l'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale ha tenuto questa mattina nella sede della regione a Pescara. L'assessore ha chiamato a partecipare i sindaci delle 15 città abruzzesi che ospitano uffici dei centri per l'impiego per conoscere direttamente da loro i problemi da affrontare e predisporre così soluzioni tecniche efficaci. I centri per l'impiego come da finanziamento governativo c'è anche il miglioramento strutturale di queste sedi, quindi voglio fare con loro il punto della situazione per poi intervenire e cercare di adeguare quegli edifici che non sono a norma, che hanno problematiche a livello di barriere architettoniche. Questo è un progetto molto importante perché vogliamo far tornare i centri per l'impiego ad assurgere quel ruolo per cui sono nato, ovvero quello di incrociare domanda e offerta di lavoro. In questi finanziamenti c'è il potenziamento anche del personale, stiamo facendo dei concorsi, ma anche a livello formativo e a livello anche informatico per fare una rete adeguata ai tempi. Assessore, ci sono oltre 20 milioni di euro a disposizione? Sì, sono oltre 20 milioni di euro per cercare di potenziare da ogni punto di vista i centri per l'impiego che poi dovranno dare attuazione a questo programma del PNR che si chiama GOL, che non è un termine calcistico ma è garanzia, occupabilità, lavoratori. Anche lì somme importanti per incentivare l'assunzione di disoccupati, inoccupati e soprattutto formarli perché molti datori di lavoro, molti imprenditori cercano manovalanza ma non hanno dei profili specifici e quindi spetta a noi istituzioni andarli a formare e a qualificarli. Carla Di Biase e Guido Gian Giacomo sono i componenti del neonato gruppo di fratelli d'Italia in provincia di Chieti. Nell'occasione il coordinatore provinciale Antonio Tavani ha tracciato un bilancio anche sulle ultime elezioni. Vediamo. Sì, anche in provincia diamo sostanza alla nostra grande crescita. peraltro questo gruppo si compone di due autorevoli rappresentanti della politica provinciale, sia Chietina con l'ex assessore Carla Di Biase, sia Vastese con il consigliere comunale Guido Gian Giacomo, già candidato sindaco lo scorso anno proprio contro il Presidente della provincia. Crediamo che anche sui temi risicati oggi, ma che potrebbero tornare a essere importanti col PNRR, Fratelli d'Italia possa esplicare bene la sua strategia e crediamo che questo sia il primo passo per puntualizzare anche le esigenze di una provincia grandissima, vastissima, complicata, complessa e che forse non sempre il Presidente Menna riesce a cogliere. Appena terminato il ballottaggio nei comuni di Ortona e San Salvo. Il modello San Salvo dove il centrodestra va unito, va insieme, va coeso e va sui temi piuttosto che sulle posizioni funziona ed è questo l'insegnamento che ci viene da San Salvo. A Ortona il messaggio che arriva invece è un altro, che dove il centrodestra si divide per ragioni che a Fratelli d'Italia sfuggono, evidentemente l'elettore di centrodestra non gradisce questa divisione. Ovviamente noi abbiamo fatto una riflessione al nostro interno anche sulla forza delle liste che forse non era sufficientemente adeguata alla forza invece del candidato che invece è piaciuto, piaceva e anche per rispondere a chi da centrodestra ci accusava di presentare a Ortona un candidato non riconoscibile, noi abbiamo presentato un candidato invece molto riconoscibile, certo sotto le aspettative con le liste, con qualcuna delle sue liste, ma noi siamo anche lì a Ortona con il doppio dei consiglieri, quindi siamo con due autorevolissimi consiglieri comunali, crediamo che l'opposizione al sindaco sarà rigida, costruttiva. Stenta a decollare il progetto della Grande Marsica, una spaccatura fra i sindaci è emersa nell'ultima riunione promossa dal comune di Avezzano, vediamo. Si fa acceso il dibattito politico attorno al progetto della Grande Marsica, l'ultimo incontro andato in scena nella sala consigliare del comune di Avezzano e promosso dal consigliere Cristian Carpineta ha visto acuirsi le spaccature tra i sindaci del territorio, netta presa di posizione dal sindaco di Celano Settimio Santilli che poco prima del vertice aveva invitato il comune di Avezzano ad aderire all'Unione Marsicana nata in sostituzione della comunità montana e alla quale hanno già aderito 34 comuni. Alcuni sindaci hanno disertato per così dire l'incontro, alcuni hanno sollevato in un certo senso questa polemica, questo parallelismo tra la Grande Marsica e l'Unione invece dei comuni marsicani, vogliamo fare chiarezza, vogliamo spiegare le differenze che ci sono tra queste due entità? Non è che hanno disertato, avranno avuto degli impegni, diversi sindaci che ci siamo sentiti erano fuori per ragioni di lavoro, d'altronde è un periodo prima delle fere quindi ci possono stare degli impegni di carattere anche istituzionale che avevano, la differenza sostanziale che c'è tra l'Unione e la Grande Marsica, che possono essere pure sovrapposti come idea iniziale, ma poi da un'attenta analisi sono totalmente diverse, perché entrambe prevedono la raggruppamento dei comuni, questo è l'elemento che le tiene unite, ma dall'altro lato è proprio all'istituzionale tutto diverso, mentre la prima è già normativizzata, è normativizzata alle leggi dello Stato, è qualcosa che proviene dall'alto verso il basso e si cala poi sui territori, noi invece volevamo fare qualcosa che non avesse la burocrazia alla base, ma una burocrazia dettata da noi in base ai tempi di cui abbiamo bisogno, perché se noi abbiamo un problema con la sanità, noi non abbiamo tantissimo tempo per poterci organizzare, quindi un'assenza di burocrazia e di dover rendere conto ci potrebbe permettere dal basso di poterla andare a guardare, quindi la sostanziale differenza è dal nucleo da dove si deve attingere, noi lo facciamo dal basso utilizzando ad esempio gli uffici delle presidenze del Consiglio, dei vari comuni che aderiranno logicamente e se l'attuale Unione Europea è nata come otto nazioni e l'Europa è sempre rimasta da questa dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, non vediamo perché la Marsica non possa nascere con 16-17 comuni. All'Aurum di Pescara al via la seconda edizione di Fenomena, la Kermess dedicata all'imprenditorialità femminile, il servizio. Sono 73 le imprenditrici del Sud Italia, selezionate per Fenomena il primo e unico salone italiano dedicato alle aziende a guida femminile in tre settori d'eccellenza del Made in Italy, come l'edizione del debutto a luglio dello scorso anno, anche per quella di quest'anno Pescara è stata scelta per ospitare l'importante Kermess che vede in primo piano il lavoro della Camera di Commercio Chieti Pescara. È un evento che vede l'imprenditoria del Mezzogiorno presentarsi su questo evento molto importante, abbiamo scelto questa location che è l'Aurum che è per noi di pescare la fabbrica delle idee e quindi in questi due giorni si confronteranno anche in B2B delle imprese importanti del Mezzogiorno d'Italia e cercheremo di trovare anche la possibilità di nuovo business da parte di queste imprese. Stando all'estime è particolarmente importante proprio al sud, se una media nazionale è del 22%, al sud raggiunge quote e supera anche il 28% di imprese rispetto a quelle maschili. Le donne sono coraggiose, le donne hanno bisogno, soprattutto al sud, non hanno un tessuto produttivo intorno a aziende per le quali poter lavorare, quindi o è statale, l'impiego è statale, oppure devono espatrigia, devono lasciare il loro paese e allora si inventano delle attività e sono quasi sempre attività di successo, perché le donne del sud poi sono particolarmente toste. Presentato a Pineto il ricco calendario delle manifestazioni estive, oltre 100 eventi per rispondere alle esigenze dei giovani, delle famiglie e dei bambini. Stefano Recanati. A Pineto l'estate è uno spettacolo, questo il claim che accompagnerà l'estate pinetese. Oltre 100 appuntamenti tra musica, cultura, teatro, cinema e spettacoli per un'estate all'insegna del divertimento e dell'intrattenimento di qualità. Da qui a metà settembre saranno diversi gli artisti noti che si esibiranno. Eugenio Finardi, Alma Megretta, Umberto Tozzi, Banda Bardo e Cisco, Dito nella Piaga, Filippo Graziani e Marco Morandi. Molto attesa l'iniziativa Carnevale anche in estate vale, in programma l'8 agosto con la Mobbetters Band. La domenica al mattino ci saranno nella Torre di Cerrano i concerti all'alba, mentre la domenica sera ci saranno gli appuntamenti del caffè letterario nel giardino di Villa Filiani. Dopo due anni difficili, molte le associazioni che sono ripartite, devo ringraziarvi davvero tutte, 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 dietro ogni rappresentante che questa sera ha raccontato un po' il programma che vedremo nel corso di questi due o tre mesi, c'è un lavoro importante. Dietro, l'ho detto, ci sono decine e decine di persone che lavorano. Lavorano. Abbiamo in qualche modo creato una bellissima sinergia con tutte le associazioni che si sono rese propositive in vista della stagione. Non è stata facile, ci abbiamo messo molto impegno, ognuno ha messo del suo. È una ripartenza questa, è stata difficile, non facile, uno sforzo importante da parte dell'amministrazione comunale, ci crediamo. E' l'ora di ripartire adesso, è l'ora di ripartire, sono convinto che sarà una stagione ricca di emozioni. Tre giorni di festa a Pescara dal 2 al 4 luglio per San Cetteo, patrono della città. Fitto il calendario di eventi religiosi e civili, vediamo. Torna la festa del santo patrono a Pescara, San Cetteo, Don Francesco, tre giorni di grandi eventi da un punto di vista religioso e anche civile. Sì, sentivamo l'esigenza, tanti fedeli durante l'anno, ma si farà la festa a San Cetteo quest'anno, però fin quando non abbiamo avuto il permesso a livello nazionale, se possiamo rimuovere, abbiamo atteso fino alla fine. Poi è stato possibile, allora subito ringrazio il comitato della parrocchia, tante persone che lavorano in rete ed è una benedizione grande. C'ho lì lo staff, tutti i giorni persone che accolgono, perché la cattedrale ha cinque porte, quindi noi accogliamo. Questi tre giorni abbiamo organizzato questa processione con l'arcivetto contentissimo, che parte da San Cetteo, va vicino alla casa di D'Annunzio, scende sul fiume e ci imbarchiamo. Poi arriviamo al porto, una preghiera di benissimo per tutta la città, rivolto proprio alla città, e poi, non ricordo, tutti i caduti per mare. E poi ritorniamo, c'è il pontificale Solenne, con i canonici, l'autorità, tutta la gente per chiedere a San Cetteo che si dia da fare, perché lui è il protettore soltanto di Pescara e dell'archidioce. Allora deve lavorare con noi, deve intercedere, perché ci fa il dono di essere noi protagonisti per la pace nel mondo, la fraternità e la concordia. Le tre sere, a cominciare dal comico, conduce con la sua orchestra, poi c'è la cover di Celentano, famosa, l'altra cover, l'altra serata che non ce l'ho scritto qua, va bene. Però sono orchestre piazzate lì alla stazione Piazza Colonna, e poi ci sta un po' mangare, giostre, bangarelle, perché fa parte della nostra vita cristiana. Tutto pronto per la quindicesima edizione del trofeo di nuoto Città di Pineto, dove sono attesi nuotatori da tutta Italia. Ancora una volta il ricavato sarà devoluto all'associazione Insieme Oltre le Onde. Vediamo il servizio. Una giornata dedicata ai valori dello sport e della solidarietà. Torna domani 2 luglio l'appuntamento con il trofeo di nuoto Città di Pineto, giunto alla sua quindicesima edizione. Questo traguardo importante lo si deve anche al gruppo Spatangus, che nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia, non si è arresa, portando avanti questo progetto. Infatti, come tutti gli anni, il ricavato della manifestazione al netto delle spese sarà devoluto all'associazione Insieme Oltre le Onde per la ricerca e la lotta alla artresia delle vie biliari malattia rara neonatale. Questo è il tono e le bracciate di tutti i nostri nuotatori saranno in favore di questa associazione. Oltre questo ci sarà anche il Crucilibro, che è sempre la parte meno sportiva, ma in attesa dei nuotatori che arrivano all'arrivo. C'è anche il Crucilibro e invece con i proventi del Crucilibro sosteniamo i progetti di ASD Poseidon. La gara anche quest'anno vedrà quattro possibili percorrenze per dare ad un pubblico più ampio la possibilità di partecipare. La classica, dalla piattaforma Fratello Cluster, arriva. La doppia, andata e ritorno, arriva alla piattaforma. La mezza, di circa tre chilometri. E la 1500 sprint sotto costa. Il trofeo di nuoto Città di Pineto, che appartiene al circuito Adriatica Acque Libere, di cui è promotore, avrà luogo nelle acque antistanti l'Idola Florida, a partire già dalle prime ore della mattina. Sono quattro manifestazioni di nuoto aperte a tutti. Lo scopo è abbracciare il mare e affrontarlo con tutta la sicurezza possibile, perché noi diamo importanza agli aspetti di sicurezza. Abbiamo l'appoggio della Capitaneria di Porto di Giulianova, la Capitaneria di Silvi, abbiamo il supporto della Croce Rossa, supporto in mare, soccorso in mare di Giulianova, e tanti comandanti di imbarcazioni private che ci seguono e deve essere una festa. In più, quest'anno ci sarà una piccola manifestazione nella manifestazione, che è dovuta a dei giovani pinettesi che navigano con noi, mentre noi a nuoto, loro con le loro piccole vele. E quindi ci supporteranno, ci affiancheranno e faranno da traino per i nostri nuotatori. Lo scopo è arrivare tutti sani, sicuri, nella maniera più tranquilla e possibile, divertendoci. E siamo entrati di fatto nella pagina dello sport. Entro la giornata odierna il Teramo attende il giudizio della Covisoc, dopo la presentazione della domanda di iscrizione che manca dell'indice di liquidità nel pomeriggio. Invece ci sarà l'assemblea dei soci in videoconferenza. Jacopo Forcella. La pronuncia della Covisoc potrebbe chiudere in maniera positiva la partita iscrizione o aprirne un'altra che vedrà il Teramo nelle aule di giustizia sportiva prima e amministrativa poi per provare a salvaguardare la Lega Pro. L'organo di vigilanza attraverso una missiva informerà solamente le società a cui mancano dei requisiti di quello che non è pervenuto o è pervenuto in maniera parziale o incompleta. Per tutte le altre tacitamente ci sarà il lascia passare per il rilascio della licenza nazionale. Nelle stesse ore la società Biancorossa terrà l'assemblea dei soci per la relazione del lavoro svolto per l'iscrizione al campionato e per discutere delle dimissioni dell'attuale amministratore unico Massimo Chierchia e dell'eventuale nomina del suo sostituto qualora le dimissioni fossero accettate e ratificate. In ogni caso, nell'ipotesi di stop alla domanda di iscrizione, il diavolo inizierebbe una battaglia legale per conservare la categoria salvaguardata sul campo dopo una stagione in ogni caso travagliata, ma che comunque si era conclusa con la meritata permanenza. Il giudizio sospeso ha comunque tenuto il teramo, lontano dalla possibilità di iniziare a costruire un organico per la prossima annata. I contratti in scadenza al 30 giugno sono decaduti e questo, da qualunque parte la si voglia vedere, costringerà la società bianco-rossa ad una lunga rincorsa. Nessuno ovviamente in questi giorni ha avuto l'opportunità di disegnare un progetto calcistico proprio perché manca ancora la certezza della categoria. La decisione influirà anche sulla tempistica, mentre Giuseppe Spinelli, in predicato di entrare a pieno titolo nel sodalizio Terramanno da settimana, rimane ancora alla finestra, cercando di comprendere quello che accadrà. L'indice di liquidità, requisito indispensabile, il che manca per avere la via libera alla Lega Pro che verrà, in caso di mantenimento della Serie C andrebbe in ogni caso messo a posto, ma le speranze di passare indenne il vaglio odierno sono poche. Poi comincerà eventualmente il secondo tempo di una partita che si preannuncia lunga, ma non lunghissima, visto che andranno conciliate le decisioni degli organi federali con quelli di riavvio del campionato. Il 21 agosto, antipasto con il primo turno di Coppa Italia di categoria. Una settimana dopo, lo start dei tre gironi. Intanto, con l'ufficialità di un ex Terramo come Massimo Paci sulla panchina della Pro Vercelli, il mosaico dei tecnici sta quasi per chiudersi. Ovviamente manca il Diavolo, la Lucchese che ha appena salutato Guido Pagliuca, il Messina, il Giuliano, la Triestina e la Viterbese. Sul fronte Pescara torna la campagna abbonamenti. Poco fa è stato dinamato un comunicato sul sito ufficiale. Una campagna che si aprirà il prossimo 4 luglio con la vendita per i soli vecchi abbonati della stagione 19-20, a partire dalle ore 16 del 4 luglio e poi nel libera vendita a partire dalle ore 10 di giovedì 21 luglio presso il store ufficiale della Pescara Calcio di Via Carducci 69, con numerosi pacchetti vantaggiosi per vedere il Pescara in campo. Sarà necessaria la sottoscrizione della nuova tessera Fidelity Card Cuore Biancazzurro dal costo di 15 euro con validità triennale. Il diritto di prelazione in vigore soltanto nel primo periodo di vendita, dal 4 al 20 luglio, è dedicato esclusivamente agli abbonati 19-20 e darà la possibilità di prenotare il precedente posto a sedere e usufruire della scontistica dedicata. Dal 21 luglio, con la seconda fase denominata vendita libera, decade il diritto di prelazione sul posto, ma non la scontistica che rimane in vigore sino al termine delle vendite. La data di chiusura della campagna abbonamenti sarà stabilita dopo la definizione dei calendari ufficiali di Lega Pro. Sul sito pescaracalcio.com è possibile consultare prezzi e offerte per i vari settori. Si è svolta due giorni fa a Pescara la premiazione dei piloti campioni italiani per auto e karting AC Sport della regione Abruzzo. Per il presidente dell'AC di Pescara Sartorelli è un segnale di ripartenza dopo i due anni segnati dalla pandemia. Vediamo. Il significato è importantissimo perché veniamo da due anni di pandemia in cui non si è potuto organizzare una premiazione per tutti i vincitori delle varie categorie del nostro sport. E quindi siamo stati costretti a farlo all'interno delle nostre automobile club portando e dando la coppa o il premio vinto al pilota senza poterlo fare però con almeno un familiare o con altri amici come faremo questa sera alla presenza anche delle autorità sportive della nostra regione. Quindi è una ripartenza. Ringrazio il presidente cellinese che ha voluto che fossi io qui a Pescara ad organizzare questa bella festa. Spero che i piloti apprezzino ed è una bella risposta per dire noi ci siamo, ripartiamo, la federazione è ancora in piedi ed è viva e vegeta. In Abruzzo noi possiamo dire che abbiamo tantissimi licenziati, tanti appassionati e tante persone che si impegnano in questo sport con tanti sacrifici. Quello che manca è forse qualche gara in più. Siamo rimasti veramente con pochissime gare, tranne popoli poi che abbiano un valore importante importante ce ne sono, stiamo cercando con gli altri presidenti di Automobile Club di sviluppare, di ritornare a organizzare gare. Per fortuna abbiamo un buon settore kart perché è seguito molto, molti bambini, ragazzini si avvicinano al kart e questo ci porta ad avere dei bei campioncini. Beh, è sempre difficile fare paragoni di questo tipo, di Tarquini, Liuzzi e Trulli ce ne sono sicuramente pochi, però adesso abbiamo alcuni ragazzi che stanno facendo delle loro esperienze anche al di fuori della nostra regione, ma addirittura alcuni al di fuori del nostro paese perché stanno correndo in altre nazioni, con ottimi risultati, soprattutto nei campionati monomarca dove ci distinguiamo e dove ogni domenica abbiamo un nostro pilota che vince. È tutto per questa edizione del TG6, a breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma Youtube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è con le prossime edizioni del TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie. Grazie. Grazie.